Il governo si è dimostrato ancora capace di fare un provvedimento così importante. C'è stato qualcuno dell'opposizione che ha votato questo provvedimento e adesso vediamo da domani mattina. Certo che pensare di essere eventualmente governati dai poteri economici e finanziari che hanno fatto un disastro a livello mondiale, mettendo i loro mini, a me viene male. Se poi penso che nel governo eventualmente futuro pare ci sia anche un certo Giuliano Amato, mi vien da vomitare. Quindi voi sarete contrari ad un possibile governo Monti? Se gli scenari sono questi, certamente sì. Noi vorremmo che chi ha vinto le elezioni possa governare. Qui in Italia i ribaltoni sono all'ordine del giorno, ahimè, è un risultato che a me sinceramente mi lascia molto perplesso, perché comunque questo paese ha una maggioranza che è stata votata. Poi ci sono stati i traditori, solo che anche qui in Italia si ragiona solo dove uno appoggia il sedere. Questo è un paese che a me fa schifo.